Cremona ricorda con affetto e stima Sandro Talamazzini, regista, documentarista, fotografo insegnante, storico volto televisivo, prima con Onda Nord e poi con Telecolor, dove curò diverse rubriche molto seguite come l'Angolo della Ricerca, i Mercoledì di Sandro, la Perla di Sandro e l'Occhio Magico. Sapeva entrare nelle case dei cremonesi e conquistare il suo pubblico, trasportandolo alla scoperta della nostra terra con passione, dedizione e competenza. Scrittore per bambini realizzò alcuni libri dedicati proprio all'infanzia e domani 22 novembre alle 19 Sandro e il suo lavoro saranno ricordati al Cine Chaplin in occasione della rassegna Cremona per Ugo. Alla presenza del sindaco Gianluca Galimberti e dell'assessore Barbara Manfredini per l'occasione verrà consegnato un premio ai due figli per la passione e l'impegno nella diffusione della cultura, tradizione e storia della nostra terra attraverso i racconti e le visioni. Sarà poi proiettato il cortometraggio di Sandro Michelino Mangiafuoco, realizzato nel 1957 che suscitò l'attenzione di Roberto Rossellini. A seguire un documentario sull'evoluzione delle tecniche di proiezione dalla pellicola al digitale e dalle 21 verrà proiettato gratuitamente il film in prima visione, Bella e perduta.